Sono invitato esplicitamente a parlare, ma io voglio ringraziare tutti i convenuti. Le parole di incoraggiamento che hanno dato a me e a Giovanna Massari per andare avanti su questa iniziativa sono molto importanti. È un bel cenacolo questo, un bel cenacolo per me, perché mi rafforza. Forse andiamo avanti. È la seconda volta che ci proviamo a fare XY e che sia quella buona, che si proceda. Chi è intervenuto ha parlato di disegno, di rappresentazione e di immagine. Tre parole, tre parole magiche, tre parole che occupano spazi diversi nelle terminologie, nei significati. Eppure si compenetrano, pure si sovrappongono. Sono tre parole che pur avendo una propria autonomia e la definibilità autonoma, in effetti si intersecano e occupano ciascuna il campo di un'altra. XY nella sua prima versione, molti anni fa ormai, ha sviluppato un incunabolo, ha avuto una nascita per queste tre parole, nell'ambito dell'architettura. È stato quello il territorio in cui si è sperimentato questo meccanismo. Poi via via è andato crescendo. E l'immagine ha acquistato una dimensione sempre più forte. Poi purtroppo c'è stata le interruzioni. Oggi rinasce, rinasce con la forza di questa parola in particolare, l'immagine. E allora dico all'amico Lenci che no, non vogliamo aggiungere una zeta, perché l'originalità di questo esperimento sta proprio nel continuare a parlare, in termini di XY, le due dimensioni dell'immagine, come sono le due dimensioni di qualunque superficie su cui noi riusciamo a proiettare, costruire, disegnare, rappresentare il mondo tridimensionale. Quello sì ne avrà tre dimensioni. Lasciamolo a chi utilizza la terza dimensione. Il punto fondamentale che XY si augura di riuscire a sviluppare, e l'incoraggiamento che voi avete dato, è in questa direzione, è proprio quello di dire queste tre parole, che cosa hanno fondamentalmente in comune? A che cosa servono? Servono a progettare? Servono a comunicare? Servono a fare? Sì, certamente. Disegno, rappresentazione, immagine servono all'uomo per comunicare, per inventare, per costruire, e quindi anche costruire la terza dimensione. Ma il punto fondamentale, su cui c'è, credo, una originalità fondamentale, è proprio quello di utilizzare le due dimensioni dell'immagine, proprio la X e la Y, per dire che queste due immagini, queste due dimensioni dell'immagine, stanno nella nostra testa, nel nostro, fanno parte del pensiero, servono per pensare. Molti anni fa, Franco Purini diceva, attenzione, il disegno è l'idea, e questa frase mi è restata sempre qui, è vero, il disegno, ma non solo il disegno. Allora, a maggior ragione, ampliamo il concetto alla rappresentazione, all'immagine in generale. L'immagine ha due dimensioni, è una figura, ed è una figura che sta nella nostra mente, sta nel nostro pensiero. Noi pensiamo anche attraverso le immagini, l'ha detto anche Todesco, il teorema di Pitaro, il binomio. Chi lo fa questo esperimento sul teorema di Pitaro? Lui l'ha fatto sul quadrato del binomio. Diventa immediatamente comprensibile se si vede un'immagine che rappresenta. L'immagine ha questo potere di rendere lucido il concetto, perché è nella nostra mente, noi abbiamo una mente. Noi ragioniamo con un pensiero che è fatto di immagine, che è fatto di bidimensionalità, che è fatto di vedere. Noi vediamo con il nostro pensiero le cose che poi progetteremo, costruiremo, faremo, di cui parleremo, che divulgheremo, che diventeranno oggetto dei nostri studi. Ma prima sono nella nostra testa e in quel momento, è quello il momento dell'immagine, è quello il momento in cui il pensiero elabora attraverso immagini. Questo è il punto fondamentale, che sempre parlando anche di architettura, anche parlando di scienza e di arte, Ecco, i temi applicativi sono questi. Abbiamo voluto estendere fortemente in questa seconda tranche di XY, estendere il nostro interesse non solo all'architettura, come fu in origine, ma anche e forse soprattutto all'arte e alla scienza. e alla scienza. Nel convincimento che arte e scienza, e così i loro modi di comunicare, i loro modi di divulgarsi, di interloquire con gli altri, interdisciplinarmente, naturalmente, sono i modi del pensiero. Ecco il punto su cui spero che XY riesca a innestare un seme importante. Il pensiero che è fatto di immagine, che noi nel pensare pensiamo anche attraverso immagini, attraverso figure. Costruiamo nella nostra mente, prima di fare, prima di realizzare, prima di disegnare ancora, prima di progettare qualche cosa che è una immagine. è l'idea, il disegno è l'idea, l'immagine, ancora più, è l'idea. E questa immagine deve far parte del pensiero, fa parte del pensiero. E siccome non vogliamo rinnegare questo aspetto del nostro pensiero, studiamolo meglio. Questo vorrebbe fare XY, entrare in questo mondo. Tutti parlano di immagine. Beh, certo è facile, è un argomento consumista, fa parte, la nostra civiltà è la nostra civiltà dell'immagine. Tutti lo sanno che si parla di questo. Ma è sempre qualcosa di applicativo. Si parla sempre di qualcosa che poi con l'immagine viene fatto, viene utilizzata, viene comunicata, viene divulgata, viene sfruttata l'immagine. Proviamo a fare invece un passo indietro, nella nostra mente, questa immagine, che cosa è, come funziona nella nostra mente, nel nostro pensiero, prima di essere concetto tridimensionale, prima di essere cosa che si fa. È un'intuizione, è un'intuizione ed è un'immagine. Non a caso la parola immagine è parente della parola immaginazione. Noi prima di realizzare le cose le immaginiamo e nel momento in cui le immaginiamo si proiettano nel nostro pensiero. È una vera e propria proiezione. Una proiezione su due dimensioni. X e Y. Se non ci sono altri interventi, chiudiamo l'incontro ringraziando i relatori, i redattori, il comitato scientifico e il pubblico numeroso, che nonostante il 14 luglio è rimasto presente. Grazie. Grazie.